Un veterano della seconda guerra mondiale pensate che ha ritrovato dopo ben 75 anni di tempo il suo grande amore Cara Troy Robbins e Janine Ganaglie si sono conosciuti infatti durante la seconda guerra mondiale Si conobbero in territori francesi, ebbero una relazione di soli due mesi e interrotta dopo la partenza dell'uomo Ma ecco che si è verificato quello che viene considerato come una sorta di tra virgolette miracolo Infatti pensate che l'uomo del veterano di guerra ha ritrovato il suo primo amore dopo ben 75 anni di tempo L'uomo avrebbe detto non l'ho mai dimenticata, insomma il ricordo è rimasto vivo in questa persona Il ricordo c'è, il ricordo persiste, permane, nonostante ben 75 anni di tempo che sono effettivamente passati Incredibile ma fottutamente vera la storia in questione che vi fa capire, vi fa rendere conto Del fatto che a volte un amore grande non può mai finire, non può mai smettere di essere presente Il video termina qua, un salutone caro, iscrivetevi al prossimo da Ananotore Italiano